Dopo Piazza della Libertà è iniziata l'era della sosta off-limits nei pressi del Sagrato del Duomo, da sempre zona pedonale, ma dove fin qui regnava l'anarchia assoluta. Dal lunedì è partita la nuova era del comune di Arezzo che prevede la tolleranza zero per chi lascerà l'auto in sosta, a eccezione delle ore serali, quando invece ci sarà licenza di parcheggio per i residenti ZTL. Una sorta di contentino proprio per i residenti del centro storico che si erano lamentati nelle scorse settimane per i pochi posti disponibili. Nonostante gli avvisi distribuiti con un volantino nei giorni scorsi, ancora non è entrato in testa gli aretini che qui non si può parcheggiare, come dimostrano queste immagini girate di pomeriggio, si contano una decina d'auto. E per gli automobilisti il rischio multa è piuttosto elevato, da quanto abbiamo appreso nella mattinata sono state elevate infatti diverse contravvenzioni. Magari un cartello in più non guasterebbe per segnare ancora di più il solco tra ieri e oggi. Per tutti il consiglio, quindi, è quello di lasciare l'auto al parcheggio pietri, per evitare così spiace buoni sorprese.